lui non ci vede in questo momento potrebbe anche essere lui vede solo una luce ecco comunque gli dovrebbero sia i maiali che i cinghiali hanno una buona memoria se loro associano il mangiare a noi vengono come hanno fatto a vero adesso è andato fuori fase ecco vieni non ti facciamo niente dai a parte rovinarti la vista esatto